salve oggi proveremo a commentare uno dei romanzi più belli della letteratura italiana del 900 si tratta di vita e morte di adria e dei suoi figli di massimo bontempelli facendo ovviamente una piccola introduzione su questo grande autore massimo bontempelli che oggi forse purtroppo e meno ricordato rispetto ad altri di quanto dovrebbe rispetto a quanto meriterebbe stato come molti sapranno uno dei più grandi scrittori e anche figure culturali della prima metà del ventesimo secolo adesso cercheremo di evitare ovviamente di parlare della biografia perché chiaramente quella ciascuno di noi può andarsela a trovare per conto proprio comunque lui era nato nel 1878 giusto per dare un'idea a como quindi apparteneva a quella generazione di tardo 800 i grandi scrittori che tra l'altro lui è un amico di alberto savinio sarà amico anche di de chirico quindi tutta quella grande generazione di artisti poi quelle avanguardie del primo novecento durante quel periodo storico quindi anche a cavallo tra la prima guerra mondiale e sorgere del fascismo tutta quella grande generazione che come abbiamo detto in tante altre occasioni ha rappresentato la grande cultura italiana del ventesimo secolo questo romanzo interessante perché bontempelli lo scrive verso la fine degli anni venti era pubblicato poi nel 1930 e della storia di questa adria che è una una donna appartenente all'alta borghesia romana appartenente quindi ad un ceto che in un certo senso bontempelli aveva anche frequentato nel corso della sua vita da giovane anche perché di quei salotti di quella vita mondana che proprio negli inizi del novecento era ritrovo di grandissime personalità culturali e non solo ovviamente questa donna che vive letteralmente per la sua bellezza in virtù della sua straordinarietà della sua capacità anche di essere quasi un'opera d'arte vivente potremmo dire vive in virtù della sua bellezza non tanto secondo un'ottica come potremmo intendere oggi ovviamente narcisista o edonista o anzi tutt'altro al contrario il personaggio di adria è un personaggio meraviglioso proprio per la sua capacità di essere quasi un mistero una un'entità che si mostra e che poi si lascia unicamente contemplare che si lascia contemplare al pari di una statua di una scultura o di un monumento di un quadro pur mantenendo sempre una certa innocenza una certa purezza d'animo un certo mistero anche montempelli infatti ci dà questa descrizione di questa donna che tra l'altro è ispirato almeno da quello che sembra da un personaggio realmente esistito da questa palmira pollini petro cochino che era una donna anche lei una grande aristocratica romana di quegli anni che poi era andata sposa ad un nobile di spagna quindi si pensa che il personaggio di adria sia che si è ispirato a questa donna realmente esistita montempelli come ho detto ci dà una descrizione minuziosa ma anche abbastanza tratteggiata di questo personaggio di un personaggio che fa sempre parlare di sé non tanto per la sua vita privata che rimane anzi quasi un mistero avvolta quasi nel totale anonimato quindi dell'eleganza che queste persone questi personaggi chiaramente hanno sempre saputo esprimere queste donne straordinarie che che erano come abbiamo detto anche delle entità quasi quasi come delle entità surreali non è un caso che infatti bontempelli appartenesse anche appartenuto per un periodo storico anche alla scuola del surrealismo per quanto poi realtà questa lo stile surrealista non si confluisca questo stile non confluisca realmente all'interno di quest'opera bontempelli ha saputo in qualche modo creare quello che poi è stato definito da altri come da calvino ad esempio il realismo magico ma il personaggio di adria come abbiamo detto vive al centro della scena romana ai inizi del novecento infatti il romanzo è ambientato proprio tra il 1903 e lo scoppio della grande guerra quindi tra ville ritrovi continui incontri al teatro valle al teatro dell'opera tutti quei luoghi di ritrovo dell'alta borghesia quella borghesia culturale che è stata in grado anche attraverso la sua ricchezza riuscì all'epoca a finanziare scrittori artisti pittori musicisti tutta quella compagine ovviamente storica e culturale che l'italia che l'europa intera ha avuto d'altronde se noi quando parliamo dell'europa dobbiamo sempre ricordarci che l'europa è stata grande anche sarà anche al centro della civiltà mondiale potremmo dire così proprio grazie anche a queste famiglie a queste donne come nel caso appunto di adria che hanno saputo attraverso la sua semplicemente il suo essere perché poi un personaggio come poi vedremo estremamente misterioso nel senso che non non ama neanche mettersi in mostra più di tanto e questo anche un elemento interessante vive in virtù della bellezza che esprime pur mantenendosene nascosta pur cercando anche di sottrarsi da essa pur vedendo anche l'enorme limite di ciò probabilmente ovviamente una donna sposata due figli tullia e remo tullia di qualche anno più grande rispetto al fratello e come abbiamo visto vive al centro delle scene circondata spasimanti adoratori corteggiatori artisti che vorrebbero farle il ritratto e lei comunque una donna che riesce perfettamente a farsi ammirare non si concede mai realmente a nessuno neanche ai suoi figli addirittura quindi può sembrare anche una personalità austera fredda profondamente enigmatica anche diciamo che addirittura i figli potranno vederla soltanto una volta alla settimana e tra l'altro anche questi figli provano un amore quasi spasmodico al limite dell'adorazione nei riguardi della madre un amore chiaramente platonico ma che si esprime poi nel guardarla di nascosto ad esempio attraverso la fessura lì del muro quando la madre ad esempio è in camera da pranzo insomma è un personaggio che a differenza ad esempio di un altro romanzo meraviglioso che è il ritratto di dorian gray di oscar wild che in un certo senso simboleggia il mito dell'eterna giovinezza però sotto un'ottica negativa distorta di questo personaggio che non vuole mai invecchiare personaggio di adria è anche consapevole del limite stesso della bellezza ed è proprio in virtù di ciò che a un certo punto si rende conto che dopo che sono passati ormai dieci anni in cui lei è stata sulla scena è stata come abbiamo detto sulla bocca di tutti addirittura in qualsiasi luogo lei si recasse e la gente aspettava che arrivasse lei proprio per poterla vedere per poter godere di questa sua presenza che non è soltanto data dalla bellezza fisica ovviamente ma da quello che esprimeva anche solo con un gesto con un con una parola con uno sguardo con un sorriso anche con la grande intelligenza e la cultura ovviamente che queste donne straordinarie avevano nel saper incantare una folla di che poi era chiaramente composta sempre da personalità straordinarie da grandi intellettuali scrittori personalità politiche tutta la grande società ovviamente dell'epoca tutto chiaramente si interromperà quando poi adria deciderà praticamente di ritirarsi completamente dalle scene adria si distira dalle scene il semplice fatto che non vuole vedersi invecchiare non vuole vedere la sua bellezza a passine in qualche modo quindi compie questa scelta assolutamente paradossale che lascia di di sasso tutti i suoi familiari anche il marito tra l'altro figura del marito che è quasi marginale una figura che è quasi come se fosse un fratello maggiore più che altro non viene neanche chiamato per nome semplicemente il marito è più presente iniziale è molto più importante all'inizio soprattutto la figura del suo amante di questo guarniero che questo uomo che è follemente innamorato di lei un amore probabilmente non corrisposto da quello che si intuisce ma che addirittura impazzirà proprio per la sua folle amore che provava nei riguardi di adria e quindi deciderà di ritirarsi dal mondo andando lasciando roma ritirando andando a vivere a parigi questo appartamento dove si rinchiude e da dove non uscirà mai più addirittura distruggerà anche non vorrà vedere neanche più gli specchi lei che era solita mirarsi allo specchio dal momento in cui entrerà all'interno di questo appartamento non vorrà più guardarsi allo specchio deciderà di riporre completamente quello che era stato per molto tempo uno dei suoi più grandi amici potremmo dire così e farà la vita della totale reclusa della come le dirà come dirà lei stessa della monaca di clausura rinunciando anche a vedere i figli a vedere qualsiasi persona questa scelta di adria anche di abbandonare in qualche modo la vita di sottrarsi che può sembrare ovviamente una scelta assolutamente strana stravagante una scelta stravagante quasi al limite della la follia potremmo dire in realtà è una scelta che ha delle motivazioni ben precise in fondo anche nella decisione di adria di ritirarsi dal mondo di inchiudersi in questo appartamento circondandosi tra l'altro da libri cominciando a leggere e che era già solita ovviamente alla lettura ma questa biblioteca immensa riviste letterarie a scrivere i suoi diari ovviamente contempelli ci sta dando anche un affresco della fine di quella grande aristocrazia romana ma io direi anche europea la fine di un'epoca perché non è un caso che siamo proprio all'inizio al sorgere della prima guerra mondiale e infatti proprio anche la scelta di adria di ritirarsi quasi in convento sta donna così bella così corteggiata come viene descritta mora con occhi azzurri quindi una bellezza che riesce a incantare soltanto con uno sguardo con un sorriso che mette in soggezione anche uomini spavaldi con potenziali casanova o don giovanni eppure sempre con una certa una certa serietà con una certa freddezza con quel giusto rigore che ovviamente è tipico di un'anima nobile quindi non nel concedersi come possono fare le moderne prostitute ma anzi al contrario farsi guardare pur sapendo di essere lei stessa a gestire il gioco in qualche modo che è tipico di una grande donna d'altronde questa capacità veni di adria nello stesso tempo poi di rinunciare alla bellezza di dire io ho vissuto tutto questo ho visto cosa è stato diciamo così anche i fasti della gloria tra virgolette bellissimo quando punto in pellici descrive le ultime passeggiate di adria per villa borghese dove viene salutata ovviamente da quei suoi ammiratori che non si aspettavano poi che non l'avrebbero più vista e poi richiudersi completamente in questo appartamento austero lì a parigi dove invece non la conosce nessuno ma che nello stesso tempo anche lì comincia ad avere ammiratori gente comunque che è curiosa di conoscerla non di persona perché chiaramente non è possibile ma di capire come mai questa donna così bella che tutti descrivevano a roma che aveva dominato le scene della capitale per quasi un decennio improvvisamente avesse compiuto questa scelta e non è un caso che proprio dalla mancanza di adria momento in cui adria se ne va a scompare dalla vita di tutti anche questa famiglia borghese la sua famiglia si va a deteriorare gradualmente anche poi proprio in virtù dello scoppio della prima guerra mondiale perché di lì a poco il marito questo uomo che era stato quasi potremmo dire così come abbiamo detto un fratello un amico un confidente il consigliere quasi di adria il cui unico scopo era stato soltanto quello di mettere al mondo i figli e basta che ha vissuto quasi anche lui in virtù della bellezza della moglie che l'ha lasciata anzi libera l'ha lasciata libera di scegliere proprio per il grande rispetto per la grande stima che aveva di questa donna anche di compiere come abbiamo detto una scelta che magari a molti avrebbe fatto che magari per molti non sarebbe stata condivisibile ma è proprio l'idea di stessa di adria è quella appunto di essere una donna non soltanto libera ovviamente ma anche una donna fortemente autonoma indipendente consapevole della sua grandezza e proprio in virtù di questa sua bellezza di questa sua grande consapevolezza anche pienamente consapevole del fatto del limite stesso della bellezza la bellezza infatti è tale proprio come dirà lei stessa in un verso in un passaggio del romanzo per il fatto che si deve che deve finire considerando che poi adria si andrà a ritirare completamente dalle scene semplicemente quando aveva raggiunto ormai quasi 30 anni quindi non era neanche vecchia a livello anagrafico potremmo dire così e da lì in poi infatti la sua famiglia si va a sfaldare completamente il marito morirà di lì a poco scoppierà la guerra quindi anche i figli prenderanno strade completamente diverse tullia rimarrà in un contatto epistolare con la madre ma non potrà mai vederla morirà proprio tullia morirà proprio durante la guerra proprio perché era entrata a far parte della croce rossa italiana e verrà anche catturata come spia dall'esercito austriaco e verrà di lì in poi verrà poi successivamente fucilata remo che era diventato un musicista che era partito per la germania prenderà strade completamente diverse si a perdere gradualmente insomma di questo romanzo attraverso la fine anche la vita appunto e la morte di questa donna bellissima di quest'adria montempere ci sta dando un affresco perfetto anche della fine di un'epoca della fine di quella grande borghesia culturale che per tutti quei secoli aveva saputo esprimere anche la grandezza dell'europa attraverso la sua cultura attraverso la sua arte attraverso la sua signorività anche attraverso tutto quello stile di vita che poi gradualmente si è andato completamente a perdere fino ad arrivare a oggi chiaramente alle parodie che assistiamo in cui troviamo unicamente una pretora di piccolo borghesi cui solo interesse è quello di contare il denaro che possiedono e basta che misurare la propria arroganza e mediocrità il personaggio di adria oltre a essere una donna straordinaria e ancora rappresentante di quel vecchio mondo culturale che nel giro di poco tempo si sarebbe completamente distrutto non soltanto a causa della guerra ma anche poi in seguito con l'avvento del fascismo in italia ed è per questo che quindi per riscoprire anche una un grandissimo periodo storico che andrebbe studiato chiaramente con una certa attenzione ma anche per vedere un bellissimo ritratto sulla belle per andare a leggere un ritratto stupendo che sulla donna e sulla bellezza sull'intelligenza anche sull'autentica grandezza anche che questo personaggio ha saputo che questo personaggio riesce perfettamente ad esprimere il personaggio di adria pur rimanendo enigmatico misterioso anche freddo da un certo punto di vista ma profondamente angelica anche nella sua straordinaria intelligenza nella sua sensibilità nella bellezza come abbiamo detto che sai manare attraverso ogni sua espressione d'altronde come diceva proprio platone la bellezza è sempre espressione dell'interno se non c'è una bellezza interiore non può esistere la bellezza esteriore e adria quindi anche nelle lettere ad esempio che scriverà la figlia in tutto il suo vivere esprime proprio questo significato autentico originario della grande bellezza platonica ed è per questo che vita e morte di adria e dei suoi figli rimane uno dei romanzi sicuramente più belli della letteratura italiana del novecento un piccolo giochiello da andare a riscoprire grazie